Anni Sei è da sempre un'azienda colorata, ecologica. Tutto nasce nella laguna di Caorle, Veneta, perché era luogo di Hemingway, ritirarsi in questi posti incantevoli. Per questo anche Anni Sei è una giacca totalmente ecologica, con legno d'olivo come bottone. Abbiamo voluto caratterizzare questa giacca in particolari dettagli, che sono praticamente le brettelle, il portagiornale, la giacca che diventa zaino. Quanto riguarda invece la collezione attuale, abbiamo anche rivisitato parecchi modelli, tra cui appoggiandoci ciò che è la maglia, tutta quanta calata, tutto smacchinato, con delle tinture fog, hanno uno spirito diverso, con questa vendatura sì di vintage, molto più pulito e soft. È una giacca che non ha età, può vestire il ragazzo che ha 15 anni, ma anche l'uomo ottantenne che vuole sentirsi giovane e apparire in una maniera elegante, sporcia e raffinata. La collezione di questa stagione, che è la primavera estate 2013, è molto soft, con un piccolo brio di colore. Oggi siamo riusciti, diciamo, a intersecarsi e ad entrare in una fascia medio alta, che abbiamo più di 300 clienti nel mondo. Abbiamo trovato un equilibrio, che è quello, diciamo, di vestire la donna e l'uomo, che vuole sentirsi giovane, che vuole essere vincente, diciamo, in un mercato che è sempre più difficile. Considerando che i sogni colorano la vita, via la negatività, è perché oggi fondamentalmente dobbiamo andare dove ci porta il cuore.